Buongiorno a parlare di questo bellissimo video della spa, questa qua è una vasca idromassaggio è stata brevettata da me Francesco Iadaresta, mia nonna materna che era ingegnere elettronico Antonietta Miele, questa qua è mancata nel 91, mia nonna materna ingegnere elettronico l'inventore, anzi l'inventrice delle pompe sommerse, sarebbe l'automobile fatta, c'è un motore elettrico che butta la benzina al motore, la stessa tecnologia è utilizzata per le vasche idromassaggio, dette spa nel 1993 circa da me e quindi praticamente io, mia nonna e mio nonno, il marito ingegnere meccanico Francesco Morgillo, questa persona qua, abbiamo brevettato le vasche idromassaggio che io ho nominato spa nel 1993 e abbiamo messo un'azienda nel 1989 circa, 1988 che si chiama Yakuzzi ed è un'azienda americana, io sono il proprietario e abbiamo messo questa azienda in America per via del presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, il vecchio presidente Ronald Reagan e l'ho messa, si dicono un sacco di bugie perché praticamente mi hanno minacciato e quindi ho detto queste bugie che l'ha fondata un italiano, Yakuzzi, invece l'abbiamo fondata io e mia nonna ed è andato dal notaio una persona appunto una persona americana di origini italiane che appunto è diventato l'amministratore delegato dell'azienda, però i proprietari sono io e grazie con l'aiuto di mio nonno e mia nonna che hanno fatto gli ingegneri, la prima vasche idromassaggio detta spa in onore alla società per azioni che si legge in italiano spa e quindi ho chiamato la vasche idromassaggio spa perché stavo studiando diritto commerciale, quindi ho messo questa azienda grazie ai miei nonni che hanno fatto i progetti, io ho fatto i disegni e i miei nonni i progetti, vi saluto arrivederci e tante belle cose!